per valorizzare la texture dei tuoi capelli ti propongo un prodotto mirato fantastico flexible mousse crea definizione effetto seta elasticità e luminosità metti un po di prodotto sulle mani e lo distribuisci ciocca per ciocca bravissima tampona un pochino con le mani e vedrai già nell'asciugatura darà un effetto naturale definito che è qualcosa di incredibile sì sono anche morbidissimi a colpo d'occhio cosa pensi del risultato guarda la definizione l'elasticità del capello riccio come ha preso corpo vita sono bellissimi voluminosi con definizione incredibile